A parlare il Presidente Pattuanelli, prego. Sì, grazie Presidente, molto brevemente. Credo che non sfugga a nessuno dei colleghi le motivazioni in realtà per cui le dimissioni non sono un patrimonio personale di chi le presenta, ma che devono passare attraverso l'espressione del voto dell'Aula. E perché quelle dimissioni a volte possono essere frutto di pressioni esterne, di condizionamenti che nulla hanno a che fare con la reale volontà di chi presenta le dimissioni. Quindi ritengo che sia un passaggio a tutela fondamentale del libero esercizio di chi rappresenta i cittadini in queste Aule. Il Senatore Cottarelli ha spiegato in realtà le motivazioni, che non sono frutto di pressioni esterne, ma della voglia di dare un contributo al Paese in un'altra veste, in un'altra sede. E ovviamente noi gli auguriamo buon lavoro, voteremo a favore della sua proposta di dimissioni, ricordando il contributo di serietà, di professionalità, di grande competenza, pur, come ha detto il Senatore De Cristoforo, anch'io non sempre sono stato d'accordo con le sue ricette economiche, ma certamente sono state portate da persona che con grande capacità e serietà ha cercato di dare risposta al Paese. Grazie.